Dunque Fanno sarà la prima città? Fanno sarà la prima città delle Marche ad accogliere la stato della Madonna di Fatima e quando abbiamo avuto questa opportunità abbiamo pensato subito a Padre Colombano che per tanti anni, quasi 40, ha animato i gruppi di preghiera alla Madonna di Fatima e quindi dalla sua San Paterniano alle 21 partirà la processione fino alla cappella dell'ospedale. Il Vescovo sarà presente sia alla processione sia alla messa delle 6 alla cappella dell'ospedale, sarà presente ad Apecchio per la fiaccolata e la messa solenne e anche a Cagli per la processione e la messa solenne nella concatedrale di Cagli. Saremo presenti anche nelle case di riposo negli istituti come Casa Serena, anzi inizieremo proprio da lì, come Casa Penelope, la Don Paolo Tonucci, la Casa di riposo di Cagli. Approfitto per ringraziare le direzioni di questi istituti che ci hanno accolto sempre a braccia aperte. Saremo presenti nelle parrocchie della cattedrale di Cagli, di Apecchio e di Serravalle di Carda. Anche qui abbiamo avuto grande disponibilità dei parroci. E soprattutto vorrei ringraziare Don Marco Polverari, cappellano dell'ospedale di Santa Croce, perché ci ha dato veramente una grossa mano. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie.